E' bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo video! Io sono BlackZavi46 e oggi vi mostrerò il mio canale sul quale porterò video riguardanti la tecnologia. Come primo video andremo ad effettuare l'unboxing del clone delle Airpods, o meglio, i 12 TWS che ho acquistato recentemente su Amazon al prezzo di 20€. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!